ciao a tutti oggi completiamo l'esercizio 3 nella prima parte abbiamo completato l'animazione sulle foto ecco e adesso dobbiamo preoccuparci dell'animazione sui titoli ovvero dobbiamo fare questo tipo di animazione qua motion graphics after effects tutorial every week on youtube e poi l'ultimo logo finale bene sono tutte animazioni simili per ottenere questo tipo di animazioni useremo sempre le maschere ma poi la maschera la useremo non tanto per tagliare il titolo ma la useremo per ritagliare un effetto bene adesso andiamo a vedere come incominciamo con lo scrivere il titolo per la scena 1 quindi prendo lo strumento testo e scrivo qui motion graphics lo sposto più o meno qui subito incastro la palette controllo easy is qua poi immediatamente sposto l'anchor point al centro della scritta quindi uso la palette move anchor point per spostare l'anchor point al centro e la fonte che io ho usato per questi titoli si chiama open sans se non ce l'avete volete procurarvela anche voi vi lascio come al solito il link che vi rimanda alla pagina dove potete scaricarvela gratuitamente quindi come dicevo ho usato la font open sans e come stile quello più largo extra bold eccolo qua poi la scritta un po più grande facciamola più o meno così benissimo il colore in questo caso il colore però bianco quindi dal colore bianco benissimo adesso ho bisogno di un rettangolo azzurro quindi vengo nella timeline deseleziono il livello testo clicco in un punto dove non c'è nulla prendo lo strumento rettangolo per disegnare uno shape layer benissimo quindi disegno un rettangolo appena più largo del testo più o meno così sposto subito il rettangolo sotto il testo allineo i due livelli quindi li seleziono tutte e due e uso la palette align se non l'avete già evidenziata qui la trovate nel menu window align qui bene per allineare orizzontalmente i due livelli fra di loro basta cliccare sul secondo pulsante e per allinearli verticalmente clicco sul penultimo e adesso i due livelli sono perfettamente allineati fra di loro bene rinomino subito lo shape layer che ho creato quindi lo seleziono tasto invio lo chiamo rettangolo azzurro poi prendo i due livelli il testo e il rettangolo e li metto esattamente sopra la foto 1 in modo che siano tutti quanti insieme e adesso però devo cambiare il colore del rettangolo perché deve essere dello stesso colore di questa parte azzurra che precede la foto quindi seleziono di nuovo lo shape layer apro la palette dei colori prendo il contagocce e campiono l'azzurro benissimo e adesso facciamo l'animazione sui due livelli innanzitutto i due livelli entrano in scena a circa un secondo e mezzo quindi andiamo col cursore a circa un secondo e mezzo e trimmiamo l'inizio dei due livelli fino qua quindi li selezioniamo entrambi prendo il lato sinistro dei livelli e lo trascino fino al cursore qua in modo che ho eliminato tutti questi fotogrammi iniziali la stessa cosa per la coda prendo il lato destro dei livelli e li allineo con la fine della fotografia perché oltre sicuramente non ci servono bene seleziono di nuovo il rettangolo e voglio che l'anchor point si trovi al centro del rettangolo quindi uso sempre la palette move l'anchor point clicco al centro e anche l'anchor point del rettangolo si trova al centro adesso quindi incominciamo a fare l'animazione sul rettangolo che è la più semplice e poi faremo l'animazione sulla scritta vediamo che tipo di animazione dobbiamo fare allora il rettangolo non c'è e poi si allarga dal centro in fuori si allarga solo in orizzontale mentre in verticale rimane costante benissimo quindi seleziono il rettangolo clicco il tasto s e facciamo come abbiamo fatto per le foto partiamo dal momento finale dell'animazione io voglio che a due secondi doveva essere finita l'animazione sulla scala quindi in questo momento accendo l'orologio della scala per fissare la grandezza così com'è quando il rettangolo entra in scena cioè un secondo e mezzo qui io voglio che abbia la larghezza 0 quindi vengo qui nella timeline spengo la catena a fianco ai valori della scala e riduco soltanto la scala x e per la precisione la metto a 0 in modo tale che l'altezza rimane costante e quindi se vedete l'animazione avviene solo in larghezza e non in altezza benissimo adesso dobbiamo fare l'animazione sul testo selezioniamo il testo e guardiamo un po' com'è dobbiamo fare in modo che la parte sinistra del titolo si muova da destra a sinistra mentre la parte di destra del titolo deve muoversi in senso opposto da sinistra a destra e per fare questo utilizzeremo le maschere in collaborazione con l'effetto transform ma facendolo è più facile capirlo quindi seleziono il livello testo aggiungo l'effetto transform quindi vado nel menu effetti nella categoria distort effetto transform questo effetto ha dei parametri che gestiscono la posizione la scala la rotazione però io posso fare in modo che questo effetto funzioni soltanto nella metà sinistra del titolo se io evidenzio questa parte sinistra con una maschera quindi facciamolo subito selezioniamo il titolo prendiamo la maschera rettangolare e tagliamo la parte di sinistra benissimo la maschera immediatamente funziona come ritaglio mi ritaglia soltanto la parte sinistra ma io voglio utilizzare la maschera per delimitare l'effetto nella parte sinistra del titolo e per fare questo veniamo nella timeline apriamo la sezione effects allargo un attimo la timeline e qui ho l'effetto transform apro l'effetto transform e in fondo alle proprietà dell'effetto c'è la sezione compositing options se noi clicchiamo il tasto più immediatamente la maschera numero 1 viene usata non più per ritagliare il livello ma per limitare l'effetto adesso se io utilizzo il parametro position dell'effetto sposterò soltanto la parte di testo che sta dentro la maschera ed è proprio quello che serviva a me bene quindi adesso facciamo l'animazione nella timeline mi allineo con il keyframe finale dell'animazione sul rettangolo azzurro quindi tasto destro sul keyframe mi allineo qui in questo momento la posizione del titolo deve essere così com'è quindi attivo l'orologio di position dell'effetto transform e ho fissato la posizione finale adesso mi allineo con il primo keyframe dell'animazione del rettangolo in questo momento invece voglio che il titolo si trovi fuori dalla maschera a destra qua e quindi grazie a questo effetto transform insieme con la maschera 1 posso muovere soltanto la parte sinistra del titolo adesso farò la stessa cosa per la parte destra quindi tanto chiudo la proprietà transform e la timeline così risparmio un po di spazio qui poi subito aggiungo un secondo effetto transform quindi effetti distort transform questo secondo effetto voglio che funzioni in una seconda maschera che delimita la parte destra del titolo quindi cosa faccio seleziono la maschera numero 1 nella timeline la duplico ctrl d e come ho fatto per le fotografie doppio clic sul bordo della maschera e sposto il lato sinistro fuori qui a destra in modo tale che adesso ho una maschera che mi delimita questa parte destra del titolo bene adesso vado a cercare il secondo effetto transform eccolo qua lo apro e nella sezione compositing options clicco il bottone più immediatamente mi associa la maschera numero 1 cioè la prima che trova ma io dal menu delle maschere qui scelgo invece la maschera numero 2 a questo punto transform 2 agisce soltanto nella parte di titolo che si trova all'interno della seconda maschera adesso farò l'animazione quindi mi allineo di nuovo con il keyframe finale dell'animazione del rettangolo in questo momento voglio che la position sia lì dov'è poi mi allineo con il primo keyframe del rettangolo e porto la parte destra del titolo fuori a sinistra benissimo adesso clicco il tasto U in modo tale che rimangono evidenziate soltanto le proprietà che hanno i keyframe che sono le due position bene adesso voglio che i keyframe finali di tutte le animazioni del rettangolo del titolo siano ammorbiditi come quei delle fotografie quindi li seleziono evidenzio la palette controllo easy ease e aggiusto anche qui il valore a 80 90 circa bene adesso facciamo una preview per vedere se va bene la velocità è giusta ma voglio che il titolo arrivi un po più in ritardo quindi seleziono il titolo e lo sposto qualche frame più avanti nella timeline vediamo se così basta direi che è perfetto bene ora creiamo il secondo titolo andiamo a vedere cosa dobbiamo fare quindi sopra la foto 2 ecco qua dobbiamo scrivere after effects tutorial è un rettangolo rosa benissimo quindi spostiamoci col cursore sopra la foto 2 prendiamo lo strumento testo e scriviamo after effects a capo tutorials benissimo subito centro l'anchor point sposto il testo nella zona in cui deve essere più o meno qua poi doppio clic sul testo voglio che tutorials sia più scuro appo la palette dei colori e lo faccio grigio molto scuro bene poi voglio che tutorial sia più grande quindi ingrandisco e sia anche un po più in basso più o meno qua e il tutto deve essere non normale ma italico quindi nel menu degli stili attivo extra bold italic modo che sia inclinato bene adesso disegno rettangolo rosa che sta sotto quindi disattivo i livelli prendo lo strumento rettangolo e disegno un rettangolo da qua a qua subito lo sposto sotto il titolo qua sotto mi metto in un punto dove vedo il rosa che devo campionare prendo la palette dei colori dello shape layer il contagocce e campiono rosa in modo che siano uguali poi seleziono lo shape layer metto l'anchor point al centro seleziono il rettangolo il testo insieme e li allineo con la palette al line li allineo orizzontalmente e verticalmente poi lo shape layer lo rinomino rettangolo rosa poi faccio in modo che i livelli comincino un secondo e mezzo dopo che è cominciata la foto numero 2 quindi la foto 2 comincia a 3 secondi un secondo e mezzo dopo è circa 4 e mezzo e allora trimmo il lato sinistro dei livelli fino qua mentre la coda dei livelli la trimmo fino a quando non finisce la seconda fotografia bene adesso faremo l'animazione sulla scala del rettangolo e sulla posizione delle due parti del titolo incominciamo dal rettangolo clicco il tasto s voglio che a 5 secondi cioè mezzo secondo dopo l'inizio la scala sia così com'è quindi accendo l'orologio all'inizio del rettangolo invece voglio che la scala verticale questa volta sia zero quindi spengo la catena e a zero la scala verticale quindi gli assegno direttamente il valore zero e quindi ho l'animazione sulla scala verticale adesso il titolo lo seleziono gli aggiungo l'effetto transform quindi effetto distort transform e questo è il primo effetto voglio che funzioni sulla parte superiore del titolo quindi ho bisogno di una maschera rettangolare la vado a prendere che mi taglia la parte superiore del titolo cioè fino qua bene e la maschera adesso la devo associare all'effetto transform quindi nella sezione effetti apro i parametri dell'effetto transform nella sezione compositing options clicco il tasto più immediatamente la maschera non ritaglia più il livello ma limita l'effetto transform e adesso facciamo l'animazione mi allineo col keyframe finale dell'animazione sul rettangolo e accendo l'orologio position dell'effetto transform per fissare la posizione finale lì dov'è poi mi allineo con l'inizio dell'animazione del rettangolo e sposto la parte superiore della scritta fuori dalla maschera in basso bene adesso chiudo i parametri dell'effetto transform per risparmiare un po' di spazio nella timeline e aggiungo un secondo effetto transform vado nel menu effetti distort transform questo secondo effetto bisogno che funzioni nella parte inferiore della scritta quindi seleziono la prima maschera control d la duplico doppio clic sul bordo e la sposto in basso in modo che adesso racchiuda la parte di tutorials ora però devo associare la maschera al secondo effetto quindi apro i parametri del secondo effetto transform nella sezione compositing options clicco il tasto più e nel menu delle maschere gli associo la maschera 2 anziché la maschera 1 benissimo adesso le animazioni mi allineo con i keyframe finali in questo momento voglio che la position dell'effetto sia lì dov'è bene poi mi allineo con i keyframe iniziali e qui invece voglio che la scritta sia fuori in alto benissimo adesso clicco il tasto u per evidenziare soltanto le proprietà con i keyframe e ammorbidisco i keyframe finali li seleziono tutti e tre e con la palette controllo easy is ammorbidisco i keyframe finali e anche ritardo il titolo rispetto al rettangolo più o meno qua vediamo se basta faccio una preview benissimo non solo voglio che il titolo arrivi dopo il rettangolo ma che la parte tutorials arrivi un po più tardi della parte after effects quindi non faccio altro che prendere la coppia dei keyframe del secondo effetto e spostarla ancora un po più avanti in modo che tutorials arriverà per ultimo vediamo benissimo direi che va bene mi fermo qua andiamo a vedere qual è il prossimo il prossimo è every week on youtube e ha un'animazione identica a quella del titolo che abbiamo appena fatto quindi questa volta anziché ripete tutte le operazioni non facciamo altro che duplicare questi due livelli e poi modificarli quindi seleziono rettangolo rosa e la scritta e control d e li duplico poi prendo i due livelli e li vado a mettere sopra la foto 3 e faccio in modo che cominci un secondo dopo l'inizio della foto 3 la foto 3 comincia a 6 quindi a 7 e mezzo circa devono cominciare quindi li prendo e li sposto qua poi anzitutto voglio che il colore anziché essere rosa sia giallo quindi spengo un attimo la foto nella timeline in modo che vedo il rettangolo giallo sotto prendo la palette dei colori dello shape layer e campiono immediatamente il giallo benissimo adesso riattivo la foto nella timeline ora per il titolo mi devo solo preoccupare di cambiare le parole ma lasciare l'animazione così com'è quindi seleziono il livello di testo doppio clic al posto di after effects devo scrivere every week on ecco magari in questo caso devo ridurre un po con la grandezza appena appena così e invece tutorials deve diventare youtube e anche in questo caso devo modificare la grandezza un po più grande così è un po più largo è un po più basso magari anche perfetto bene adesso seleziono i due livelli e li riallineo perché probabilmente non sono più allineati bene come prima quindi vado nella palette online clicco sul secondo bottone per allinearli orizzontalmente e il penultimo bottone per allinearli verticalmente ultima cosa devo spostare da dove si trovano e metterli sulla sinistra più o meno qua adesso faccio una preview c'è un problema all'inizio dell'animazione come vedete youtube non è del tutto fuori dalla maschera quindi seleziono il livello di testo clicco il tasto U per evidenziare le proprietà coi keyframe devo allinearmi con il primo keyframe della secondo effetto quindi vado qui go to keyframe time in questo momento il testo youtube deve essere un po più in alto ecco così adesso è completamente fuori dalla maschera facciamo una preview benissimo adesso ci siamo ottimo ci manca l'ultimo testo andiamo a vedere cosa dobbiamo scrivere in questo caso dobbiamo solo scrivere il testo mg tutorials questo lo rifacciamo di nuovo da capo quindi ci mettiamo sopra l'ultima foto prendiamo lo strumento testo e scriviamo mg a capo tutorials innanzitutto il testo non deve essere italico ma normale poi mg deve essere più grande più o meno così e tutorials deve avere uno stile più sottile tipo semi bold ed anche più piccolo o meno così è più vicino alla scritta bene ora allineo la scritta al centro della composizione clicco sul secondo bottone della paletta line clicco l'ultimo bottone per allinearlo anche verticalmente ma in questo caso però lo sposto un po più in alto faccio in modo che mg finisca esattamente a metà vediamolo sopra lo sfondo bianco direi che è perfetto bene adesso prima di fare le animazioni trimmo l'inizio della scritta e faccio in modo che incominci un secondo e mezzo dopo l'inizio della foto quindi la foto comincia a 9 e quindi faccio cominciare il titolo a circa 10 e mezzo e la coda la trimmo alla fine della foto bene adesso vado nel menu effetti famiglia distort transform e devo limitare questo effetto alla parte superiore quindi prendo lo strumento rettangolo e taglio via la parte superiore cioè così vado nella timeline apro gli effetti apro transform in composition option clicco il tasto più e associo la maschera 1 facciamo subito l'animazione vogliamo che l'animazione sia un po più lenta che duri circa un secondo quindi l'animazione comincia qua a circa 11 e mezzo è passato un secondo e qui accendo l'orologio di position dell'effetto all'inizio del livello cioè qua la scritta deve trovarsi fuori in basso bene adesso chiudo l'effetto transform aggiungo un altro effetto distort transform subito duplico la maschera la seleziono ctrl d doppio clic sul lato superiore e la sposto sotto associo questa maschera al secondo effetto quindi lo apro clicco il tasto più di compositing option e gli associo la maschera numero 2 bene riapro i parametri del primo effetto mi allineo con il secondo keyframe della position ecco in questo momento voglio che tutorial si trovi lì dove sta quindi accendo l'orologio della seconda position bene a questo punto clicco il tasto U così mi rimangono soltanto le due proprietà con i keyframe mi riallineo con il keyframe iniziale e in questo momento voglio che la scritta tutorials sia fuori dalla maschera in alto benissimo seleziono i due keyframe finali li ammorbidisco come al solito usando la palette controllo is is e non solo voglio anche che l'animazione della scritta tutorial avvenga in ritardo rispetto a mg quindi sposto più avanti la seconda copia di keyframe facciamo una preview per vedere se tutto va bene ok quindi nel momento in cui la fotografia sparisce la scritta finale compare benissimo rivediamo tutto quanto il lavoro fatto fino qua quindi foto 1 con la sua scritta foto 2 con la sua scritta foto 3 scritta foto 4 scritta finale perfetto quindi l'esercizio è terminato e ci vediamo alla prossima ciao ciao